È stato il nostro direttore Matteo Inzaghi ad aprire la convention che a SST Settelaghi ha dedicato alla ripartenza e alle nuove frontiere del dopo Covid. Domani lo speciale di Rete 55 sulla nuova terapia intensiva pediatrica. La politica di Varese si concentra sugli ex UDC, nucleo che ha condizionato in maniera decisiva le ultime tre elezioni amministrative e che, stando alle ultime informazioni, sarebbe pronto a ritornare nel centrodestra. Raccolta puntuale, si parte. I 22 comuni aderenti a Coinger sono pronti. Nel 2022 prenderà il via la fase di sperimentazione che porterà nel 2023 al sistema della tariffa di bacino. A partire dal weekend del 24 e del 25 luglio, la strada provinciale che collega il gaggetto a Cerro di Laveno resterà chiusa a tutti i fine settimana fino al termine della bella stagione. Ne parliamo con il sindaco Sant'Agostino. Nello sport all'ippica con la puntata odierna di Mondo Galoppo e il calcio con le regole inalterate del campionato di eccellenza. Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del Tg di Rete 55 che incominciamo parlando di sanità. Quale è la ripartenza per la sanità di Varese provincia? Quali scelte attivate per motivi di Covid saranno mantenute e quali al contrario verranno smantellate? Quali saranno gli ospedali, i presidi e più in generale gli asset su cui ASST Settelaghi investirà? Domande che sono state affrontate da tanti autorevoli interlocutori questo pomeriggio a Villa Cagnola di Gazzada nella grande convention che l'azienda sanitaria ha dedicato alla ripartenza e alle nuove frontiere della cura e dell'assistenza. Presenti medici, manager del settore e amministratori pubblici tra i quali il governatore Attilio Fontana, il rettore dell'Insubria Tagliabue e la presidente dell'Ordine dei Medici Beretta. Ad aprire i lavori Matteo Enzaghi con una relazione sul ruolo dell'informazione durante la pandemia e continuando a parlare di salute vi ricordo che nelle tre edizioni della TG in onda domani presenteremo uno speciale sulla terapia intensiva pediatrica appena inaugurata all'ospedale Filippo del Ponte di Varese. Parliamo ora di politica, sono gli ex Udc a confermarsi l'ago della bilancia e a condizionare queste prime fasi di campagna elettorale. L'analisi del direttore Matteo Enzaghi. Mentre sindaci uscenti e candidati si preparano alla corsa schierando le truppe e contando i soldati la politica di Varese si concentra sul nucleo che ha condizionato in maniera decisiva le ultime tre elezioni amministrative decretando per due volte l'elezione al sindaco di Attilio Fontana e nel 2016 spostando su Davide Galimberti i voti necessari per consegnargli la vittoria al ballottaggio. Quel nucleo fa riferimento agli esponenti di punta dell'ex Udc che cinque anni fa costituirono l'associazione Varese Attiva per poi dare vita alla Lega Civica del cui simbolo sono artefici e titolari. Fu sotto quest'ultima insegna a sostegno del candidato Stefano Malerba che la squadra capitanata da Ennio Imperatore e Mauro Morello portò Galimberti al primo piano di Palazze Estense. Non è questione di opinioni bensì di numeri e di percentuali determinanti ed è per questo che gran parte degli incontri, delle trattative, dei tira e molla di questi ultimi giorni stanno interessando proprio quel nucleo facente riferimento a Cristian Campiotti capo della storica Udc Varesina che stando alle ultime informazioni sarebbe pronta a ritornare nel centro-destra schieramento ad essa più consono per storia, cultura, esperienza e convergenze di programma. Se così fosse il centro-sinistra di Galimberti remedierebbe un colpo ferale aggravato dalla classifica del Sole 24 Ore che registra un crollo del gradimento del sindaco dalle analisi locali più volte citate e dal più recente sondaggio nazionale che nei giorni scorsi ha visto un centro-destra un passo dal 50% e una copiata PD 5 Stelle ancorata al 37. E sempre a proposito di politica trasferiamoci a Gallarate dove la candidata Serati si focalizza sulle periferie. Durante il lockdown quando tutto è rimasto temporaneamente immobile è emersa la potenzialità delle periferie non più luogo di passaggio o dormitorio ma anche risorsa con i suoi spazi verdi e i suoi negozi. Purtroppo però le serrande alzate si contano sulle dita di una mano. Anche a Gallarate dove secondo Sonia Serati candidata a sindaco per la lista civica più gallarate è necessario intervenire celermente per favorire la rinascita del tessuto economico di prossimità. Francamente il primo pensiero è rivolto ai commercianti delle aree, dei quartieri non del centro. Le aree come Cedrate come anche abbiamo potuto vedere Charest sono aree completamente abbandonate da un punto di vista di servizi e di commercio. Abbiamo incontrato per esempio mi viene in mente il cartolaio di Charest che si occupa di dare servizi di vario tipo al quartiere. Ora verrebbe subito da contestare ma cosa può fare l'amministrazione comunale per rendere accattivante sicuramente queste aree come per esempio nel nostro programma noi abbiamo pensato per tutte quelle aree commerciali nuove o anche in difficoltà di fare un piano programmatico lungo alcuni anni quindi 5 anni e non oggi perché c'è la necessità di oggi certo diminuire la tassazione è sicuramente una bella proposta ma non è risolutiva ai commercianti che peraltro sono esperti nel risolvere le crisi perché i commercianti hanno dalla loro che sono capaci di gestire il rischio di impresa quindi dovrebbero essere loro a dare suggerimenti all'amministrazione e dare delle indicazioni su come attuare un piano al medio e lungo termine per risollevare l'economia o anche rendere accattivante un'aria per esempio facendo un programma di riduzione delle impostazioni pensiamo all'ICA piuttosto che ad altre impostazioni di riduzione però non di quest'anno ma di tre anni cinque anni in base a un progetto che si può fare insieme altro tema fondamentale la sicurezza le aree verdi dei quartieri sono spesso considerate come pericolose e dunque non frequentate da famiglie e da anziani il secondo punto a cui devo dire bisogna dare estrema importanza è la sicurezza ora un argomento delicato perché la giunta attuale ha puntato molto sulla sicurezza e ha lavorato tanto per garantire ai cittadini la sicurezza della città è altrettanto vero che proprio anche in questi quartieri tutte le aree verdi di spazi pubblici vengono viste come dei luoghi addirittura pericolosi in alcuni momenti perché vengono affollati o abitati da giovani e giovanissimi che purtroppo si dedicano all'ozio e quindi distruggono rovinano attraverso anche atti vandalici e quindi le persone le famiglie non si sentono sicure la soluzione secondo noi può essere per esempio di creare delle aree sportive abbiamo tantissime realtà che lo dimostrano che sono positive quindi sostenere quei nuovi costumi quelle nuove abitudini dei cittadini di dedicarsi allo sport e quindi accattivare con queste attrezzature le famiglie le persone i giovani e dare il buon esempio ora trasferiamoci a Sumirago la rivoluzione della raccolta dei rifiuti incomincia da Coinger raccolta puntuale si parte i 22 comuni aderenti a Coinger sono pronti nel 2022 prenderà il via la fase di sperimentazione che porterà nel 2023 al sistema della tariffa di bacino la gara d'appalto per determinare il gestore è già stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale e la previsione è quella di affidare il servizio nel mese di novembre nei fatti ai cittadini verrà consegnato un kit comprendente bidoni e sacchi tutti dotati di microchip l'utente dunque pagherà solo in relazione alla quantità di rifiuti prodotta la misurazione prevede che si vanno a misurare tutti i rifiuti conferiti tutte le frazioni quindi sia la frazione indifferenziata che le frazioni differenziate la carta il vetro la plastica e la frazione organica attraverso l'utilizzo di nuove attrezzature che Conger fornirà a tutti gli utenti quindi i bidoni per quattro frazioni e i sacchi per la raccolta invece della plastica ogni attrezzatura quindi ogni bidone ed ogni sacco sarà abbinato all'utenza in modo tale che sarà possibile identificare l'utente che ha conferito la tipologia di rifiuto questa stessa modalità di raccolta verrà applicata anche alle utenze non domestiche dunque aziende e negozi che per le attività industriali o commerciali varrà il principio del quel principio europeo per cui si paga in funzione dell'effettiva produzione di rifiuti il primo comune ad aver avviato la sperimentazione è stato Morazzone dove si è passati ai 55 kg di rifiuti indifferenziati a annui per abitante rispetto ad una media di 90 e non finisce qui proprio a Morazzone abbiamo individuato un 10% di utenze di cui non si conosceva l'esistenza e che dunque non pagavano la Tari spiega Taricco e per quanto riguarda gli abbandoni verranno definite delle nuove regole per frenare e tenere sotto controllo il fenomeno innanzitutto verrà definito un regolamento di igiene ambientale uguale per tutti i comuni questo regolamento conterrà anche un unico sistema sanzionatorio che andrà a colpire i trasgressori stiamo inoltre pensando all'istituzione di un ispettore ambientale che su autorizzazione del sindaco potrà provvedere ad emanare queste sanzioni nei confronti di coloro che avranno trasgredito appunto abbandonando i rifiuti Donata Potito è una pediatra di Malnate oggi in pensione ma sempre attiva per quanto riguarda i consigli sulla cura dei più piccoli è autrice di un libro che ha presentato proprio oggi qui a Rete 55 un libro per adulti che si occupano di bambini in quanto genitori educatori medici insegnanti perché la galassia dei piccoli è variegata disseminata di pianeti magnificata dal valore della scoperta è ostacolata da problemi piccoli e grandi a volte sottostimati a volte ingigantiti a volte semplicemente fraintesi pueri culture dal bambino ideale al figlio reale è la bussola che la pediatra Donata Potito affiancata dalla coautrice Daniela Simoncini ha voluto fornire a chi intende muoversi nell'universo dell'innocenza attraverso domande mirate risposte puntuali interventi autorevoli una mappa per capire di più curare meglio proteggere il futuro decidemmo di coinvolgere anche altri operatori e persone che si occupassero comunque del mondo dell'infanzia ma che non fossero dei pediatri una nutrizionista una linguista e soprattutto questo fu una una diciamo un'idea di Daniela di coinvolgere le mamme quindi un gruppo di mamme che ci ci fece delle domande ben precise e cercamo quindi di costruire anche un testo che fosse un testo sulle sulle esigenze delle mamme infatti vedo vedo lei dice non è un manuale però molto gli somiglia perché ci sono domande molto precise perché il mio bambino piange perché ha disturbi del sonno come usare il ciuccio perché non mangia perché non cresce tante cose che sentiamo risuonare sicuramente nella quotidianità a cui voi diciamo aiutate a trovare una risposta e a proposito di salute le immagini che state vedendo si riferiscono alla iniziativa di ieri a Casciago dove Leonardo Mendolicchio ha presentato il libro Il peso dell'amore dedicato ai disturbi alimentari una piaga che colpisce purtroppo molti giovani e giovanissimi e che vede a Villa Miralago di Quasso uno dei balluardi di cura più efficaci e autorevoli a introdurre la presentazione Antonio Tomassini a interloquire con l'autore Federica Sartini oggi giorno dei funerali di Raffaella Carrà i ragazzi del Granello di Cislago cooperativa sociale molto meritoria hanno dedicato un bellissimo e commovente omaggio alla Raffa nazionale prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro è questo lo slogan della cooperativa sociale il Granello Don Luigi Monza di Cislago che affonda le sue radici nell'esperienza cattolica nei principi della sussidiarietà e nella promozione del valore della persona in ogni momento della vita il Granello è il luogo di formazione ed inserimento lavorativo per adulti e ragazzi con disabilità fisiche e psichiche gli stessi ragazzi che nel giorno dei funerali di Raffaella Carrà celebrati nella luminosa basilica romana di Santa Maria all'Araceli hanno mandato il loro pensiero alla regina della televisione italiana interpretando un suo celebre cavallo di battaglia Raffaella avrebbe apprezzato tantissimo grande la mia terra io mi sono puntata che non c'erò che non c'erò ma quanto l'amore c'è com'è bello far l'amore da Trieste com'è bello far l'amore io so prontare tanti auguri anche tanti amantia tanti auguri mi affagni di città com'è bello far l'amore da Trieste ricordate farlo sempre tu che poi ma tu e se ti lasciano sai che si fa trovi un altro più bello che il problema io so ciao a terra lungo lago pedonale dal 24 luglio lo ha deciso l'amministrazione comunale di Laveno Monbello non solo sport dopo la realizzazione dei due campi da gioco nell'area gaggetto inaugurati a fine giugno l'amministrazione comunale di Laveno Monbello non si ferma e si impegna per promuovere lo sviluppo turistico del territorio soprattutto dopo il lungo periodo di lockdown caratterizzato da chiusure forzate e dalla crisi a partire dal weekend del 24 e del 25 luglio la strada provinciale che collega il gaggetto a Cerro resterà chiusa tutti i fine settimana fino al termine della bella stagione vogliamo favorire l'arrivo dei turisti e valorizzare le bellezze della nostra Laveno dice il sindaco Luca Sant'Agostino abbiamo ottenuto dalla provincia la possibilità che tutti i weekend la strada provinciale che dal gaggetto quindi dal nuovo alla spiaggia fino a Cerro sia resa pedonale quindi avremo il sabato e le domeniche con le chiusure e la possibilità dei cittadini di andare a piedi dall'Aveno a Cerro e godere delle spiagge che ci sono lungo la costa che stiamo ripulendo e sistemando abbiamo già visto con le piccole aperture che sono state in queste periodi di lockdown che il turismo ormai è diventato un turismo di prossimità e quindi dare la possibilità a tutti coloro che vogliono godere della bellezza di questa area della bellezza del lago delle spiagge del verde e dell'architettura anche che c'è lungo queste strade in tutto il nostro territorio è sicuramente l'obiettivo che vogliamo perseguire quindi questi progetti vanno in questa direzione è un primo anno di sperimentazione in un periodo molto difficile in base a questi risultati poi decideremo come proseguire negli anni futuri e che laveno abbia voglia di ripartire all'insegna del divertimento e della socialità sempre nel rispetto della normativa anti-covid lo dimostra anche Comic Sponde il festival del fumetto e dei videogiochi in programma in città proprio a partire da questo weekend Apriamo la pagina sportiva parlando di cavalli Baghe dall'ievo di Vincenzo Fazio ospite questa sera di Mondo Galoppo alle 21.05 parteciperà al premio Robert Papin che brilla e spicca e sarà in programma il prossimo 18 di luglio a Maison Lafitte questa è una notizia dunque Baghe dall'ievo di Vincenzo Fazio già iscritto al Prix Robert Papin che si correrà a Maison Lafitte domenica 18 luglio Baghe è il secondo del premio primi passi è andato in scena il 30 di giugno scorso a San Siro Corsa che era stata dominata dall'imbattuto Windstorm Black all'ievo di Sebastiano Guerrieri lo stesso Baghe era imbattuto almeno fino al premio primi passi in bocca al lupo allora per il Prix Papin sperando che possa ripercorrere Baghe dalle orme di Omaticaia ricordata poco fa migliorando il secondo posto conquistato dalla figlia di Bernstein sui 1100 metri di Maison Lafitte Vincenzo ma un cavallo in crescita ha fatto nel primi passi era la terza corsa in carriera il cavallo che è partito dal basso è cresciuto corsa dopo corsa è un cavallo che è venuto e sta venendo tanto avanti Winston Black diciamo che è un cavallo sopra le righe io le faccio un cavallo internazionale quel giorno nei primi passi io ho dato ordini a Cristian di montarlo in maniera prudente non rischiando di perdere il secondo posto che ero convinto in una prestazione insomma importante del cavallo di Sebastiano Guerrieri così è stato il cavallo prende un bel secondo posto senza essere neanche tanto spremuto Cristian gli è piaciuto tanto è rimasto soddisfatto il cavallo è iscritto al Papenne e in settimana decidiamo insomma se ne vale la pena se il cavallo è in ordine è tutto a posto e ci fa vedere che è tutto in ordine dovremmo dovremmo andare io esaminando la linea francese la linea francese non mette tanto paura speriamo che non venga qualche inglese di quelli tosti contro gli inglesi qualche timore e ciò ora Mattia Andriolo ci parla del campionato di eccellenza che mantiene inalterata la formula quarto girone neanche per sogno le società hanno parlato sembrava ormai certo quantomeno cosa fatta e invece il campionato di eccellenza non cambierà di una virgola nella prossima stagione il presidente d'avecchio dal comitato regionale non ha ritenuto di decidere da solo e ha voluto chiedere parere alle 53 società che hanno scelto a maggioranza di rimanere al proprio posto questi i fatti per i quali forse c'è da rimanere perplessi perché dubbi e domande vengono spontanee com'è possibile che dopo due stagioni quasi azzerate dalla pandemia un'annullata l'altra stoppata e poi ripresa con un nuovo formato si possa pensare di riprendere una terza volta senza neanche arrivare a un cambiamento o una modalità anti-covid chi ci dà la certezza che la stagione 21-22 possa davvero segnare il ritorno alla normalità senza tamponi senza recuperi senza lockdown arrivano fino in fondo senza un intoppo nessuno proprio nessuno può darci questa risposta nemmeno la politica la virologia e allora perché non provare ad essere lungimiranti prepararsi alle difficoltà e trovare una soluzione che magari non faccia contenti tutti ma che può essere efficace a beneficio del campionato serve una decisione netta e precisa ovviamente presa dall'alto e non scaricata politicamente sulla democrazia delle società che giustamente hanno tutto il diritto di giocare un campionato con la certezza di vincerlo e di salire tagliando traguardo per primi quindi niente quattro girone con tre promozioni proposto senza neanche uno straccio di formula per decretare i vincitori calendario ricco e probabilmente ingolfato in caso di blocchi per covid non ci resta che piazzarci comodi in tribuna e salvo proposte innovative in quest'estate vaccinale sperare che tutto vada bene per questa sera è tutto io vi auguro un buon proseguimento sempre in compagnia di Reti55 grazie a tutti